Il nostro prodotto si basa su un tessuto tecnico sportivo che abbiamo sfruttato per fare dei capi un po' più formali e un po' più eleganti. Quindi noi partiamo da una collezione che varia da un blazer formale doppio petto a un varsity o un coach jacket che puoi usare anche in modo un po' più contemporaneo con una t-shirt. Viaggiavo spesso fra Italia e Stati Uniti e volevo una linea di abbigliamento che potessi indossare dove fosse comoda come una tuta sportiva ma allo stesso tempo un po' elegante, cioè non fosse una felpa col cappuccio, qualcosa di un po' più diciamo formale. Il nostro prodotto di punta è la camicia che è estremamente comoda, la puoi lavare in lavatrice tranquillamente e poi non la stiri, quindi la appendi, la asciughi e la riindossi il giorno dopo. Abbiamo sempre fatto Made in Italy, sì. Made in Italy